Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su Minacraftman. Prima di tutto lasciate un pollice in su. Se volete che faccia una serie su questo gioco cliccate mi piace e poi cagherò video a profusione. Iniziamo il video, le basi per sopravvivere su questa mappa sono l'espansione della nostra isola di 6x6, cercare materiali come pietra, ferro, diamante e cercare di non farsi stuprare dai mostri. Nella cassa troviamo materiali essenziali per sopravvivere e materiali che sono introvabili su questa mappa. I materiali sono una palla di ferro, un diamante, una carica di fuoco, 4 uova di villico, 2 uova di pecora, 3 uova di polli, 32 carboni, una canna da pesca, 2 pesci crudi, 5 torce, e una merda putrefatta. Questa serie la chiamerò Survival Craft. Cazzo, ragazzi è una fatica per loquendizzare 30 minuti di video, quindi velocizzerò il video e farò un 2 o 3 parti, perché è già difficile loquendizzare un video di 5 minuti. Ora farò sta minchia di scala, per andare a tagliare l'albero della merdosità, prendiamo la legna, per farci un tavolo da lavoro e poi un piccone, una spada, un'ascia e infine una palla di legno. Può darsi se riuscirò farò un server e giocherò con alcuni amici, e farò dei video. Per ora farò questa serie, forse sarà di 500 o 600 video, dico forse perché per fare 500 video alloquendizzare ci vorrà un 2 o 3 anni. Già per fare un video ci vuole 3 o 4 ore. Porca puttana devo tagliare sto pezzo perché dura 3 ore. Ecco qui sto facendo il minatore, no, nel senso che mi sto facendo le seghe. Non vedo l'ora di trovare qualche materiale come carbone e ferro, perché devo fare un pene di ferro che funziona con il carbone. Dai, dai, dai che ce la fai. Merda capo siamo rimasti gli intrappolati in un buco pieno di pucciossi trolli. Cazzo stai lontano. Ai 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 mi brucia il culo. Ma dove cazzo scavo, per colpa di quel coglione mi ha fatto rompere la strada. Finalmente ferro, cazzo che soddisfazione. Prendiamo anche il carbone. Mi sono dimenticato di fare il piccone di pietra. Ecco sono andato là sopra e ho fatto un piccone di pietra per prendere un po' di ferro. Porca troia che faticaccia. Pezzo di merda scrafaglio, sei una piattola pisciata. Ti rivassi di mezzo la terra. Merda prendiamo il carbone. Ma che cazzo, sento un rumore forse ho trovato una caverna. Finisco il video qui perché è soltanto una prova se devo continuare la serie. Ciao.